come migliorare una presentazione con l'abito giusto, una presentazione di un prodotto o di un servizio, una presentazione di un'idea durante una riunione. Al termine di questo video avremo visto quindi come potenziare una presentazione, avremo visto come trovare contenuti migliori, avremo visto come quindi migliorare la nostra autorevolezza grazie al vestito, all'abito che noi indossiamo. Quando ho pensato di girare questo video avevo proprio in mente quel mio cliente che in consulenza si presentò per propormi la sua presentazione del suo prodotto, era un prodotto di tipo finanziario. Bene, si è presentato regolarmente durante la consulenza, abbiamo fatto il riscaldamento iniziale, la preparazione iniziale e ad un certo punto comincia a raccontare, ma attenzione lo fermo, lo guardo bene e dico scusa tu adesso stai indossando un maglione, sì e farai la presentazione del tuo servizio finanziario in maglione. No, ovviamente no, avrò sicuramente la giacca e la camicia, la cravatta dice non la metto quasi mai. Ah, allora devi andare a cambiarti. Oggi vediamo insieme perché è determinante l'abito quando noi parliamo. Perché l'abito, come si suol dire, fa il monaco, l'abito fa il monaco. Ma attenzione, l'abito fa il monaco non soprattutto per chi ci sta osservando, per chi interagisce con noi, insomma per le altre persone, ma l'abito fa il monaco per il monaco stesso. Indossa un abito da monaco e ti sentirai monaco e comincerai a pensare come un monaco. Non ci credi? Vuoi provare? Allora oggi vediamo tre step, uno dopo l'altro, con degli esercizi pratici in cui ti faccio provare proprio questo, l'importanza dell'abito per migliorare le tue presentazioni di prodotti, servizi e nuove idee. Prima di tutto dobbiamo vedere la postura. Ti presento due posture velocissimamente. La postura neutra, che io chiamo postura neutra 1. Le braccia sono abbandonate lungo i fianchi, i piedi sono leggermente divaricati, mi sento rilassato, le ginocchia sono morbide, pronte a intervenire. Quindi le braccia sono abbandonate e sono rilassato. La postura neutra 2 invece è questa. Vedi che mi avvicino perché così riesci a vederla bene. Le braccia sono piegate con un angolo più stretto di 90 gradi, quindi non sono così roboticamente, ma sono piegate in modo tale che le mani si incontrino, eccomi qua, si incontrino in modo dolce. Se stringo le mani succede che produco tensione, se produco la tensione la sento io e la sente l'interlocutore. Infatti vedi che adesso sto stringendo le mani e hai la percezione anche inconscia di una certa tensione. Le mani si incontrano dolcemente, così, così, in questo modo, così. Insomma questi sono dettagli poi poco rilevanti. Posizione neutra 1, posizione neutra 2. Vediamo allora subito i tre step. Anche oggi, come ho iniziato da alcuni video, l'esercitazione la faremo insieme, cioè io starò qua ad aspettarti, perciò hai due modalità per usufruire di questo video. Il primo, fai gli esercizi insieme a me con i tempi del video. Il secondo, invece, ti guardi solo le parti in cui ti spiego le cose, poi salti al capitolo successivo. I capitoli li trovi qui sotto in descrizione, ma in realtà si evidenziano anche sulla barra di scordimento del video. Se vuoi fare gli esercizi insieme a me, per prima cosa, metti in pausa il video perché devi subito procurare, a seconda di come sei vestito, un abbigliamento casual, quindi maglietta, t-shirt, potrebbe essere anche tuta, maglione, super casual, super rilassante e rilassato, e invece un abbigliamento più formale, quindi giacca, cravatta, camicia o anche non cravatta o tagliore per le donne. Procurato questo possiamo cominciare con il primo step. Step numero uno, indossa tuta e maglietta oppure maglione, l'importante è che sia un abbigliamento morbido, casual e quindi elastico e tu ti possa muovere con il massimo dell'elasticità. Bene, a questo punto ti chiedo di farmi subito una presentazione di te stesso, di te stessa, in un minuto circa, io sarò qui ad aspettarti, quindi guarderò verso l'obiettivo, quindi ti guarderò davvero tu hai una persona con cui interagire. Fai una presentazione di te stesso o te stessa, chi sei, quindi nome e cognome, che cosa fai nella vita, che cosa ti piace fare, che cosa preferisci, che cosa gradisci, eccetera, eccetera. Un minuto di tempo, dopodiché ti fermerò. Quando ti fermerò fai una conclusione, chiudi, inventala lì per lì, adesso cerchiamo di esercitarci, facciamo delle prove, come viene, viene. 3, 2, 1, via col tempo. Grazie. E voilà. Un minuto è passato, finisci se devi finire. E ora ti chiedo, punto fondamentale, come va? Ecco, questo è un lavoro da farsi con la lente di ingrandimento. Come va? Bene o male? Ok, cosa vuol dire bene o male? Beh, mi sono sentito, mi sono sentito, per esempio, naturale. Ecco, cosa vuol dire naturale? Beh, vai sui dettagli concreti, sulla pratica. Beh, per esempio, mi sono sentito naturale, cioè ho sentito che le parole uscivano in modo semplice, disinvolto, oppure mi sono sentito sentita rigida. Perché? Per queste ragioni. Cioè cerca delle ragioni concrete. Per esempio ho sentito che mi tire, avevo una tensione alla gamba destra. Non so, lo sto inventando, naturalmente, perché possono essere tantissimi i fattori di osservazione che ci vanno a dire che cosa vuol dire, che cosa realmente vuol dire quel bene o male. Passiamo a questo punto allo step 2, ed è lo step della giacca e cravatta. Ancora una volta ti darò il tempo e ancora una volta ti chiederò di fare praticamente la stessa presentazione. Io sarò qui con te. Se lo vuoi fare adesso, ti ripeto, lo fai adesso insieme a me, altrimenti passa al capitolo successivo. Con questa presentazione giacca e cravatta, beh, non ti anticipo niente, dai, vediamo come va. Stessa presentazione di prima. 3, 2, 1, vai. Stessa presentazione di prima. Stessa presentazione di prima. Ad ecco qua, è passato un minuto. Finisci. Se vuoi terminare, puoi terminare. E andiamo quindi a vedere ancora una volta come va. Stesso discorso di prima. se vuoi fare le considerazioni, le puoi fare su un foglio di carta con un'audioregistrazione, quindi registra un audio di te stesso o te stessa. e puoi fare anche un'altra cosa. Puoi scrivere qua sotto nei commenti. Puoi scrivere quindi come ti è andata, puoi scrivere step 1, a me è successo questo, 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 questo. Step 2, a me è successo questo, questo, questo. Ma soprattutto adesso che hai fatto lo step 2, la cosa importante è confrontare lo step 2 con lo step 1. Che differenze hai sentito? Ebbene, attenzione. Differenze di sensazioni fisiche, sensazioni emotive, stati d'animo e, attenzione, contenuto. Vocaboli che hai utilizzato, costruzioni del discorso. Sono le stesse di prima? Allora ci sono due fattori in gioco. Il primo si tratta di una replica, quindi l'hai fatto prima. D'accordo, allora tieni conto di questo fattore. Il secondo fattore invece hai cambiato abbigliamento. Bene, hai sentito delle differenze tra prima e adesso? Scrivile, annotale, commenta anche qui sotto. Magari adesso metti in pausa in modo da tenere subito gli appunti prima che ti sfugano via. E poi passiamo a fare lo step successivo. E vediamo, infatti, lo step numero 3. Lo step delle scarpe. Step delle scarpe perché ti chiedo adesso di indossare, in due esercizi distinti, di indossare magari pantovole o infradito e, nel passaggio successivo, indossare invece un paio di scarpe super classiche, di quelle belle, rigide, classicone. Magari, se sei una donna, ovviamente con il tacco, possibilmente. E la stessa cosa, senti la differenza. Io direi che possiamo fare due interventi nello stesso step, uno di 30 secondi e l'altro di 30 secondi, quindi te lo lascio fare. La cosa importante è indossare le scarpe, muoviti nell'ambiente in cui ti trovi, nella stanza. Produrrai anche delle rumorosità, dei suoni, camminando con un tipo di calzari e con l'altro tipo di calzari. Bene, senti anche questo, fai attenzione a questo, ma troppi pensieri, troppe cose. Agisci. Quando sei pronto, quando sei pronta con le due tipologie di calzari, io ti chiederò di cambiarle. Puoi cominciare con quelle comode, per esempio, e poi andare su quelle invece più rigide. Ti darò 30 secondi e 30 secondi. Cominciamo subito. Mi imposto i 30 secondi. Ecco qua. Cominciamo con Pantofolo Infradito. Anche i piedi nudi? Sì, anche i piedi nudi. È interessante anche questo. Perciò, 3, 2, 1, vai. Continua a parlare e muoviti nello spazio. Continua a parlare e muoviti nello spazio. Continua ancora. Muoviti. 5 secondi. E stop. Ti do il tempo per cambiarti. Quindi cambiare calzari. Magari se hai i piedi nudi indossa adesso le scarpe classiche. Quindi tacco oppure classicona da uomo. Quelle belle toste robuste. Quando sei pronto, quando sei pronta cominciamo. Naturalmente tutti questi momenti morti io non sono lì con te, perciò puoi mettere il video in pausa e riprendere quando ti senti pronto o pronta. Perciò, 3, 2, 1, altri 30 secondi in cui dovrai parlare muovendoti nella stanza. 3, 2, 1, vai. Vai così. Continua il tuo discorso. Quasi finito, 5 secondi. E ci siamo. E ci siamo. Eccoci qua. Ora hai fatto tre step e puoi confrontare il terzo step con il secondo e con il primo. E vedere le differenze che hai provato. Differenze perciò, attenzione, ancora una volta, di sensazioni fisiche, sensazioni emotive, stati d'animo, idee e concetti che sono saltate fuori. E' costruzione del discorso, perché questo è un punto importante decisivo, perché stiamo scoprendo una modalità decisiva per costruire i nostri discorsi, non solo per provarli, per provarli con la vera finalità. E cioè trovare le idee e le migliori idee. Il punto è, infatti, che l'errore da evitare è quello di vestirsi bene per fare bella figura. Questo non è il vero scopo del vestirsi bene. Ma sì, insomma, noi dobbiamo vestirsi opportunamente. Se stiamo parlando in una situazione sportiva con dei ragazzi è opportuno indossare giacca e cravatta. Ma forse no. Probabilmente no. A seconda del ruolo che devo avere. Ma se mi trovo in una situazione nel consiglio di amministrazione, sono tutti in giacca e cravatta, che faccio? Ci vado in tuta, in pigiama? Ovviamente la risposta è banale. Ma il punto è un altro. Ciò che hai potuto vedere, infatti, è l'opportunità. Cioè le idee e l'energia che ti ha dato utilizzare diverse abbigliamenti. Naturalmente se tu vuoi dare un messaggio morbido, un messaggio easy, chiamiamolo così, un messaggio di semplicità, potresti indossare, appunto, già, pardon, vedi che è l'apsus, indossare il maglione, la tuta, anche il pigiama, mentre fai le prove, mentre fai la ricerca, purché poi quello sia lo stesso abbigliamento che utilizzerai quando davvero farai il tuo discorso, davvero interagirai con le persone. Perché altrimenti, che cosa succede? Fai le prove, ti prepari in un modo, e poi nella realtà sarai in un altro, e tutto sarà sconvolto. E invece devi mantenere questa coerenza. Perché? Perché questa modalità, tra l'altro, ti permette di trovare idee, trovare un lessico diverso. Poi, se tu vuoi trovare anche più accezioni all'interno dello stesso contenuto, perché non fare delle prove addirittura utilizzando volutamente abbigliamenti diversi? È un'opportunità questa che puoi sfruttare. Bene. Ora, quello che ti chiedo, come sempre, è se ci sono delle domande. Domande, cioè se vuoi approfondire degli argomenti di cui ho trattato oggi o in altri video, se vuoi approfondire cose a cui ho semplicemente accennato, e ve ne scrivilo qua sotto, io sarò super felice di girare dei video. Sto già girando video che rispondono a domande delle persone. Mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella, perché così vedrai quando arriveranno i prossimi video. Ma adesso vediamo subito un riepilogo. Oggi abbiamo visto quindi come scegliere l'abbigliamento per cercare le idee e non solo per fare bella figura, anzi è proprio la cosa meno importante. Quindi come vestirsi proprio per fare le prove. E quindi l'abbigliamento che andiamo ad usare diventa potenziante. È uno strumento per potenziare i nostri discorsi. Ti ricordo che ti puoi iscrivere, ti puoi unire al mio canale Telegram, qua sotto trovi tra l'altro il link per il canale, lì trovi delle anticipazioni su video che devono ancora uscire su YouTube, anticipazioni sulle dirette e un sacco di discussioni e confronti per approfondire gli argomenti che trovi qui su YouTube. Così come grazie anche alla newsletter, dove oltre a novità ti riporto anche il punto della situazione della settimana, così hai ben chiaro che cosa è uscito come contenuto qui su YouTube e anche sul mio blog. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, è la nostra esperienza che ci rende esperti. A presto. Ciao.